ciao nel video di oggi ci occupiamo di uncinetto e andiamo a realizzare insieme uno shawl al punto puff e uno shawl triangolare super facile da realizzare per cui è adatto anche per tutti i principianti per come si può notare molto molto soffice e leggero ma questo perché utilizzato un filato molto sottile per cui il mio consiglio è quello di utilizzare sempre dei filati sottili per ottenere questa sofficita e leggerezza altrimenti se utilizzate dei filati grossi vi verrà una specie di coperta io ho lavorato con dei filati polo nord per come vedete è un filato molto sottile però l'ho lavorato in due capi insieme al lurex ovviamente lurex non dà spessore troppo spessore per cui lo potete utilizzare per qualsiasi genere di filato e poi per dare leggerezza e sofficita ovviamente utilizzato un uncinetto abbastanza grosso in questo caso di 3,5 mm ok adesso facciamo un piccolo esempio finché riusciate a capire come sviluppare il vostro shawl che ovviamente avrà la grandezza che voi desiderate nel video sto utilizzando un filato più grosso affinché si riesca a vedere bene quello che sto facendo e per iniziare facciamo 4 catenelle finito di fare le 4 catenelle possiamo iniziare la lavorazione della prima riga facendo delle maglie basse in ogni catenella per cui entriamo con l'uncinetto nella seconda catenella e facciamo una maglia bassa dopodiché in ogni catenella faremo una maglia bassa alla fine della riga ci ritroviamo con 3 maglie basse e adesso iniziamo la lavorazione della seconda riga facciamo le 3 catenelle iniziali che appartengono al punto puff per cui giriamo il nostro lavoro e nella base delle 3 catenelle che abbiamo appena fatto facciamo 4 maglie alte chiuse a metà esattamente come si vede nell'immagine questa è la seconda la terza è la quarta maglia alta chiusa a metà dopodiché possiamo chiudere il tutto fatto questo andiamo nella prossima maglia di base facciamo una maglia bassa per ancorare il nostro punto puff fatto questo nell'ultima catenella andiamo a fare un altro punto puff lavorando 5 maglie alte chiuse a metà praticamente tutte le volte che noi facciamo una riga di punto puff bisogna iniziare con il punto puff e finire con quest'ultimo in questo modo voi sapete che avete fatto gli aumenti correttamente detto questo vado a chiudere adesso il punto e iniziamo la prossima riga facciamo una catenella giriamo il nostro lavoro ed ora in poi iniziamo i vari aumenti per sviluppare il triangolo faremo una riga di aumenti e una di punti puff nella riga di aumenti facciamo soltanto maglie basse per cui l'aumento si farà sia all'inizio della riga che alla fine andate nella prossima maglia di base e fate tre maglie basse esattamente come si vede nell'immagine e questo è il nostro aumento iniziale dopodiché in ogni maglia di base si farà una maglia bassa finché arriviamo all'ultima maglia questa sarebbe l'ultima maglia vedete il punto puff è quello per cui anche in questo andiamo a fare tre maglie basse e adesso possiamo iniziare la prossima riga che si lavorerà come la seconda facciamo tre catenelle iniziali giriamo il nostro lavoro e nella base di queste tre catenelle facciamo quattro maglie alte chiuse a metà per ottenere il nostro punto puff che vi ricordo sarà all'inizio dovete iniziare con il punto puff e finire con il punto puff vi dico questo visto che dobbiamo alternare maglie basse punto puff fino alla fine del della riga per cui nella prossima maglia di base facciamo una maglia bassa nella prossima ancora facciamo un punto puff per cui lavoriamo cinque maglie alte chiuse a metà e adesso chiudiamo le maglie che abbiamo sull'uncinetto dopodiché nella prossima maglia facciamo una maglia bassa nella prossima ancora facciamo di nuovo un punto puff poi nella penultima maglia facciamo una maglia bassa e nell'ultima maglia facciamo il punto puff poi facciamo una catenella e giriamo il nostro lavoro in questa riga esattamente come abbiamo fatto precedentemente una riga di maglie basse in cui si faranno i vari aumenti all'inizio della riga nel primo punto puff praticamente andiamo a fare tre maglie basse dopodiché in ogni maglia di base facciamo una maglia bassa finché arriviamo all'ultimo punto puff in cui ovviamente facciamo di nuovo l'aumento ed ecco sono arrivata alla fine per come vi dicevo nell'ultimo punto puff andiamo a fare le tre maglie basse così abbiamo bilanciato il tutto abbiamo sia all'inizio che alla fine i vari aumenti e vedrete che così man mano che andate avanti svilupperete il vostro triangolo ok adesso non bisogna fare altro che girare il nostro lavoro facendo le tre catenelle iniziali e iniziamo di nuovo una riga di punti puff in cui alterniamo un punto puff e una maglia bassa fino alla fine della riga vi ricordo che qua non ci sono aumenti da fare per cui proseguite in questo modo alternando le due righe che avete visto precedentemente finché avete raggiunto la misura che desiderate ed ecco come si dovrebbe presentare il vostro shawl man mano che andate avanti con la lavorazione per come vedete abbiamo iniziato con due punti puff poi siamo passati a quattro e così via man mano che si va ad aumentare potete contarli all'inizio per vedere se state aumentando correttamente e niente io ho aggiunto anche un secondo colore per cui sbizzaritevi come più vi piace e io spero tanto che questo video tutorial vi sia stato utile se avete delle domande potete farli pure sotto nella sezione commenti e io vi do appuntamento come al solito al prossimo video tutorial ciao ciao